Musica Benvenuti dal TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla paventata chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Niscemi e dei reparti di chirurgia e medicina. Numerose associazioni del territorio, tra cui l'anti-racket Ninetta Burgio, hanno scritto una lettera alle autorità istituzionali. Primo destinatario, il ministro della salute Beatrice Lorenzin. C'è forte preoccupazione a Niscemi sulla paventata chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Suora Cecilia Basarocco e dei reparti di chirurgia e medicina. Numerose associazioni del territorio, tra cui l'anti-racket Ninetta Burgio, hanno scritto una lettera alle autorità istituzionali. Primo destinatario, il ministro della salute Beatrice Lorenzin. Dalle ultime notizie raccolte, purtroppo la situazione non è delle migliori. Non ci sono rassicurazioni, tutt'altro. Le associazioni chiedono chiarezza e garanzie sulla sorte della struttura ospedaliera di Niscemi. I tagli alla sanità dicono non possono colpire la comunità di Niscemi e l'assistenza sanitaria in maniera indiscriminata, privando una comunità del diritto alla salute. È auspicabile, invece, che il diritto alla salute venga garantito migliorando e potenziando servizi sanitari ed assistenziali già presenti. Se si chiudessero i reparti del nostro comio, Niscemi subirebbe l'ennesimo oltraggio, anche in considerazione delle evidenti ed oggettive difficoltà. Il comune di Niscemi è inserito nell'elenco delle località dichiarate sismiche del suo territorio e indicato come appartenente alla zona 2, alla quale corrisponde un'accelerazione sismica massima orizzontale. Niscemi è un territorio ad elevato rischio idrogeologico. Tutta la cintura periferica, che da sud va verso nord, passando per il versante ovest, presenta diverse aree classificate ad elevato rischio, dove insistono numerose strade di collegamento. Lo stesso comune ha una popolazione di circa 28.000 abitanti, dove generalmente si verificano numerose emergenze sanitarie di varia gravità, che se non trattate con tempestività, possono portare a conseguenza tragica. Niscemi, inoltre, è riconosciuto ed inserito nell'area ad elevato rischio inquinamento ambientale per la vicinanza dello stabilimento di Gela e ad elevato rischio di propagazione di onde elettromagnetiche per l'impianto delle antenne MUOS. La carenza di un presidio territoriale dotato di autonomo pronto soccorso indurrebbe la popolazione a rivolgersi ad altri presidi ospedalieri e quindi a raggiungere quelli viciniori, Gela, Caltagirone e Vittoria, che distano non meno di 20-35 km e che comunque non sono raggiungibili se non dopo 30-40 minuti per le pessime condizioni di viabilità e per la loro ubicazione nel centro edificato. Inoltre, il pronto soccorso di Gela, Caltagirone e Vittoria sono già al limite del collasso funzionale, tanto da non riuscire a soddisfare la domanda di salute pubblica locale. Le associazioni invocano un immediato intervento del Governatore Rosario Crocetta e della Giunta regionale, un intervento deciso ed immediato delle autorità a tutti i livelli istituzionali ed ognuno per le proprie competenze affinché sia garantito il diritto alla salute e pertanto nella rielavorazione del piano sanitario si tengano conto delle criticità. Torniamo a Gela, ancora un attentato incendiario la scorsa notte in città. In fiamme l'auto, una BMW di un disoccupato di 35 anni. La vettura era parcheggiata sotto l'abitazione della vittima in via Orsa Minore nel quartiere Modernopoli. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale. Da sabato scorso la sala operativa della pubblica assistenza Procivis di via Ossidiana 23 a Gela è intitolata a Giacomo Ferrera, già coordinatore provinciale del servizio emergenza radio e della federazione italiana Rige Trasmissioni. Ferrera si è spento un anno addietro. All'iniziativa di sabato erano presenti numerosi volontari. L'eucaristia è stata celebrata da donna Raimondo Gionmusso. Al termine della messa la presenza della moglie di Ferrera, Maria Granvillano, è avvenuta l'intitolazione. Giacomo Ferrera rappresenta, oltre a rappresentare un collega, un amico, rappresenta anche un presidente che in passato si è dedicato alla protezione civile, fondando la prima associazione di protezione civile nel nostro territorio di Gela. Per noi, oltre a rappresentare tutti i volontari, chi più o meno offre il proprio tempo libero a beneficio della collettività, naturalmente lascia un'impronta importante nella nostra città. E quindi ricordare la figura di Giacomo Ferrera sinceramente diventa anche un ringraziamento per colui il quale ha aperto la materia della protezione civile nel nostro territorio. Quindi ricordarlo significa anche ringraziarlo per quello che ha fatto. Gli insegnamenti che lui ci ha lasciato è quello di darci la possibilità, soprattutto di specializzarci nell'ambito delle radiocomunicazioni. Ecco, ricordo quanto ero ancora volontario all'inizio, quindi delle prime armi all'interno della CB Vittorio Costa. Si facevano tanto per le radiocomunicazioni, si facevano delle prove tecniche con altri centri operativi dove si testavano proprio gli apparati radio in caso di emergenza. Poi successivamente, ecco, dalla CB Vittorio Costa ho seguito, ho aperto un altro settore sempre nell'ambito della protezione civile, che è quella della Procivis, nel territorio che si occupa di sanitario e di protezione civile. Cosa ci resta? Ci resta soprattutto un modo anche per poter comunicare, un modo per dare testimonianza che le radiocomunicazioni in caso di emergenza diventano importanti. Il messaggio di oggi, in questo primo memorial, è quello di intitolare la nostra sala operativa a una persona che si è speso per il territorio, come è Giacomo Ferrera. E questo è stato il nostro grazie da volontari a questo volontario, un collega fra tanti colleghi. Cambia la Costituzione tra dubbi e certezze e il tema che sarà affrontato nell'ambito dell'attivo dei quadri della CGL previsto per mercoledì 23 novembre alle 9 all'Hotel Ventura a Caltanissetta. Introdurrà i lavori Ignazio Giudice, segretario provinciale generale della CGL Nissena. Interverranno Giancarlo Ferro, docente di diritto costituzionale all'Università di Catania ed il magistrato Lirio Conti. Concluderà mimma argurio della segretaria regionale generale della CGL Sicilia. La CGL, attraverso una nota, invita a votare no al referendum sulla riforma costituzionale che vedrà gli italiani decidere il 4 dicembre. Domani invece al mercato settimanale di Gela il Partito Democratico ha promosso un volantinaggio per ribadire le ragioni del sì al prossimo referendum. Fanno tappa a Caltanissetta domenica 20 novembre i portavoce del Movimento 5 Stelle arrivati in treno in occasione dell'Io Dico No Tour. In piazza Garibaldi, per spiegare i motivi del no al referendum costituzionale, c'erano in città infatti i portavoce del Movimento 5 Stelle, al Parlamento Europeo, alla Camera, ma anche in Regione e nel comune di Caltanissetta. Tra i presenti Alessandro Di Battista, Ignazio Corrao, Azzurra Cancelleri, Maglio Di Stefano, Giancarlo Cancelleri e Giovanni Magri. Un appuntamento, quello del 20 novembre, svoltosi a Caltanissetta, che rientra nel tour partito l'11 novembre da Osta e che si chiuderà a Torino il 2 dicembre. Un tour di più di 6.000 chilometri, percorsi utilizzando treni regionali e traghetti, che ha coinvolto e coinvolgerà diverse città italiane, per un totale di 48 tappe su tutto il territorio nazionale, per sostenere le ragioni del no al referendum costituzionale che si svolgerà domenica 4 dicembre. Noi ci siamo schierati per il no sin dalla fase della genesi di questa riforma, perché sono i modi che non ci sono piaciuti, non ci piacciono i contenuti, non ci piace il modo in cui è scritta, non ci piace l'obiettivo che ha questa riforma. Purtroppo ci ritroviamo in una situazione in cui il primo ministro, piuttosto che pensare a governare l'Italia, pensa a fare una campagna su un referendum che riguarda una riforma costituzionale che probabilmente gli è stata chiesta da fuori e che serve semplicemente a dare più potere a chi il potere già ce l'ha. È una riforma che sbilancia gli equilibri istituzionali tra governo e Parlamento dal lato del governo, è una riforma scritta male, è una riforma che va a indebolire il ruolo delle istituzioni, è una riforma poco leggibile in cui non si capisce più bene la funzione del Senato, si vanno a sminuire la funzione degli enti locali, si vanno ad avere dei senatori che saranno consiglieri regionali e sindaci al dopolavoro, che saranno nominati dei partiti e che faranno esclusivamente quello che il partito che li nomina gli ordina di fare. Allora, noi abbiamo altre priorità, questo Paese ha bisogno di ripartire, questo Paese ha bisogno di riforme concrete che riguardano la vita concreta dei cittadini e ha bisogno di dire no a questi giochi di potere che sono fatti da chi si ritrova in un certo momento a governare e cambia la Costituzione per restarci più a lungo. Una riforma della Costituzione si fa in Parlamento, tenendo conto di tutte le forze politiche presenti, coinvolgendo i cittadini e andando a toccare quelli che sono i bisogni dei cittadini per i cittadini. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Comune di Gela, la Libreria Mondadori e l'Istituto Scolastico Ettore Majorana organizzano per venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 novembre un'iniziativa che si trarrà nei locali di Palazzo Ducale. Alle 16.30 del 25 è prevista l'inaugurazione della mostra denominata Letteratura e Arte. Sabato 26 al Teatro Eschilo, alle 10.30 e alle 20.30 si trarrà lo spettacolo l'urlo dei silenzi artisti contro la violenza sulle donne. Sono numerosi gli attori che saliranno sul palco, la regia è affidata a Maurizio Nicastro, hanno aderito all'iniziativa numerosi club service territoriali. E oggi con le nostre telecamere abbiamo seguito a Gela la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Anche Gela, come dicevamo, ha aderito con l'Istituto Comprensivo Giovanni Verga, scuola amica dell'Unicef. Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Anche Gela ha aderito con l'Istituto Comprensivo Giovanni Verga, scuola amica dell'Unicef. Oggi sono state messe in campo una serie di iniziative che vedono protagonisti gli alunni attraverso la preparazione di cartellonistica, riflessioni, visione di cortometraggi, esibizioni sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questa mattina gli alunni delle classi di scuola primaria del plesso di via Caviaga si sono recati nel plesso centrale di via Salunicco e assieme agli altri studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado hanno festeggiato l'evento. Ricordare i bambini che ci sono ai loro pari, che hanno bisogno e versano veramente in condizioni di vita indescrivibili e indicibili non apprezzo. Non apprezzo ai fini dell'educazione e della sensibilità all'affettività, alla solidarietà, che sono tutti i valori che ci pregiamo di trasferire i nostri alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. È una giornata più che altro celebrativa, che ha l'impronta di una festa, che riusciamo a realizzare anche grazie di quell'impegno degli insegnanti, primi fra tutti, ma che si correda dell'operato realmente è una testimonianza di grande creatività. Noi siamo qui perché abbiamo veramente una grande gioia di partecipare a questo progetto che ha una finalità importante. Abbiamo scoperto che i nostri bambini tutti hanno compreso il messaggio e l'hanno compreso oggi diversamente da come poteva essere ieri. Oggi hanno riflettuto su quali potevano essere realmente i loro diritti, diritti che loro non riconoscevano perché per loro cose ovvie come la famiglia, la salute, l'istituzione, la scuola e quanto altro erano normalità di tutti i giorni, mentre oggi hanno compreso che questi si chiamano diritti e che questi diritti non sono alla portata di tutti. Abbiamo studiato i diritti, ci hanno fatto vedere anche molti video di persone che soffrivano, ci hanno fatto capire l'importanza di questa festa, abbiamo fatto anche dei cartelloni. Ho imparato che questi bambini non devono soffrire, cioè perché non ci dovrebbe essere manco la guerra perché se no questi bambini soffrono, piangono, muoiono. Il diritto alla vita, ad essere protetto, ad avere un dottore, ad avere un nome, ad avere una famiglia al gioco. Domani tutte le sezioni di scuola dell'infanzia ricorderanno la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza incontrandosi nel plesso di Via Caviaga, dove è prevista la marcia dei diritti nel cortile della scuola. L'iniziativa prevede la presenza di una delegazione dei volontari dell'Unicef che si presteranno a dare il loro contributo. I nativi digitali, vita da social tra reale e virtuale. E questo è il tema di una conferenza organizzata dalla Rotary Club di Gela, preseduto da Simone Siciliano, con il patrocinio del Comune domani martedì 22 novembre alle 18.30 presso l'ex chiesa di San Giovanni. A relazionare sul tema il professor Francesco Pira, sociologo, docente di comunicazione presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università di Messina. Porterà i saluti istituzionali del Comune l'assessore ai servizi sociali Francesca Licia a Bela. Il tema è particolarmente sentito, comprendere come i nostri figli preadolescenti e adolescenti vivono il rapporto con il web ed in particolare con i social network, quali possono essere i pericoli e quali invece le tante opportunità. Appuntamento con 10 domande 10, questa sera alle 21, nostro ospite sarà il presidente di Reset 4.0 Maria Ferrera. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18.00. Fai la cosa giusta, differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, lunedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente. Conferire piccoli oggetti di uso domestico, nastro adesivo, penne, carta carbone, oleata, plastificata e da forno, posate in plastica, sottovasi, bacinelli, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli, elettrici e non, cassete audio e video, floppy disque, cd, dvd, spugne sintetiche e stracci sporti, cosmetici, calze in nylon, lumini votivi, pannolini assorbenti igienici, sacchetti aspirapolperi, mozziconi di sigaretta. È assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o incolorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla paventata chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Niscemi e dei reparti di chirurgia e medicina. Numerose associazioni del territorio, tra cui l'Antiracket, Ninetta Burgio, hanno scritto una lettera alle autorità istituzionali. Primo destinatario, il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. C'è forte preoccupazione a Niscemi sulla paventata chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Suora Cecilia Passarocco e dei reparti di chirurgia e medicina. Numerose associazioni del territorio, tra cui l'Antiracket, Ninetta Burgio, hanno scritto una lettera alle autorità istituzionali. Primo destinatario, il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Dalle ultime notizie raccolte, purtroppo la situazione non è delle migliori. Non ci sono rassicurazioni, tutt'altro. Le associazioni chiedono chiarezza e garanzie sulla sorte della struttura ospedaliera di Niscemi. I tagli alla sanità dicono non possono colpire la comunità di Niscemi e l'assistenza sanitaria in maniera indiscriminata, privando una comunità del diritto alla salute. È auspicabile invece che il diritto alla salute venga garantito, migliorando e potenziando servizi sanitari ed assistenziali già presenti. Se si chiudessero i reparti del nostro comio, Niscemi subirebbe l'ennesimo oltraggio, anche in considerazione delle evidenti ed oggettive difficoltà. Il comune di Niscemi è inserito nell'elenco delle località dichiarate sismiche del suo territorio e indicato come appartenente alla zona 2, alla quale corrisponde un'accelerazione sismica massima orizzontale. Niscemi è un territorio ad elevato rischio idrogeologico. Tutta la cintura periferica che da sud va verso nord, passando per il versante ovest, presenta diverse aree classificate ad elevato rischio, dove insistono numerose strade di collegamento. Lo stesso comune ha una popolazione di circa 28.000 abitanti, dove generalmente si verificano numerose emergenze sanitarie di varia gravità, che se non trattate con tempestività, possono portare a conseguenza tragica. Niscemi, inoltre, è riconosciuto ed inserito nell'area ad elevato rischio inquinamento ambientale per la vicinanza dello stabilimento di Gela e ad elevato rischio di propagazione di onde elettromagnetiche per l'impianto delle antenne MUOS. La carenza di un presidio territoriale dotato di autonomo pronto soccorso indurrebbe la popolazione a rivolgersi ad altri presidi ospedalieri e quindi a raggiungere quelli viciniori, Gela, Caltagirone e Vittoria, che distano non meno di 20-35 km e che comunque non sono raggiungibili se non dopo 30-40 minuti per le pessime condizioni di viabilità e per la loro ubicazione nel centro edificato. Inoltre, il pronto soccorso di Gela, Caltagirone e Vittoria sono già al limite del collasso funzionale, tanto da non riuscire a soddisfare la domanda di salute pubblica locale. Le associazioni invocano un immediato intervento del governatore Rosario Crocetta e della giunta regionale, un intervento deciso ed immediato delle autorità a tutti i livelli istituzionali ed ognuno per le proprie competenze affinché sia garantito il diritto alla salute e pertanto nella rielaborazione del piano sanitario si tengano conto delle criticità. Torniamo a Gela, ancora un attentato incendiario la scorsa notte in città. In fiamme l'auto, una BMW di un disoccupato di 35 anni. La vettura era parcheggiata sotto l'abitazione della vittima in via Orsa Minore nel quartiere Modernopoli. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale. Da sabato scorso la sala operativa della pubblica assistenza Procivis di via Ossidiana 23 a Gela è intitolata a Giacomo Ferrera, già coordinatore provinciale del servizio Emergenza Radio e della Federazione Italiana Rige Trasmissioni. Ferrera si è spento un anno addietro. All'iniziativa di sabato erano presenti numerosi volontari. L'eucaristia è stata celebrata da donna Raimondo Gionmusso. Al termine della messa la presenza della moglie di Ferrera, Maria Granvillano, è avvenuta l'intitolazione. Giacomo Ferrera rappresenta, oltre a rappresentare un collega, un amico, rappresenta anche un presidente che in passato si è dedicato alla protezione civile, fondando la prima associazione di protezione civile nel nostro territorio di Gela. Per noi, oltre a rappresentare tutti i volontari, chi più o meno offre il proprio tempo libero a beneficio della collettività, naturalmente lascia un'impronta importante nella nostra città. E quindi ricordare la figura di Giacomo Ferrera sinceramente diventa anche un ringraziamento per colui il quale ha aperto la materia della protezione civile nel nostro territorio. Quindi ricordarlo significa anche ringraziarlo per quello che ha fatto. Gli insegnamenti che lui ci ha lasciato è quello di darci la possibilità, soprattutto di specializzarci nell'ambito delle radiocomunicazioni. Ecco, ricordo quanto ero ancora volontario all'inizio, quindi delle prime armi all'interno della CB Vittorio Costa. Si facevano tanto per le radiocomunicazioni, si facevano delle prove tecniche con altri centri operativi dove si testavano proprio gli apparati radio in caso di emergenza. Poi successivamente, ecco, dalla CB Vittorio Costa ho seguito, diciamo, ho aperto un altro settore, sempre nell'ambito della protezione civile, che è quella della Procivis, nel territorio che si occupa di sanitario e di protezione civile. Cosa ci resta? Ci resta soprattutto un modo anche per poter comunicare, un modo per dare testimonianza che le radiocomunicazioni in caso di emergenza diventano importanti. Il messaggio di oggi, in questo primo memorial, è quello di intitolare la nostra sala operativa a una persona che si è speso per il territorio, come Giacomo Ferrera. E questo è stato il nostro grazie da volontari a questo volontario, un collega fra tanti colleghi. Cambia la Costituzione tra dubbi e certezze e il tema che sarà affrontato nell'ambito dell'attivo dei quadri della CGL previsto per mercoledì 23 novembre alle 9 all'Hotel Ventura a Caltanissetta. Introdurrà i lavori, Ignazio Giudice, segretario provinciale generale della CGL Nissena. Interverranno Giancarlo Ferro, docente di diritto costituzionale all'Università di Catania ed il magistrato Lirio Conti concluderà Mimma Argurio della segretaria regionale generale della CGL Sicilia. La CGL, attraverso una nota, invita a votare no al referendum sulla riforma costituzionale che vedrà gli italiani decidere il 4 dicembre. Domani, invece, al mercato settimanale di Gela, il Partito Democratico ha promosso un volantinaggio per ribadire le ragioni del sì al prossimo referendum. Fanno tappa a Caltanissetta domenica 20 novembre i portavoce del Movimento 5 Stelle arrivati in treno in occasione dell'Io Dico No Tour. In piazza Garibaldi, per spiegare i motivi del no al referendum costituzionale, c'erano in città, infatti, i portavoce del Movimento 5 Stelle, al Parlamento Europeo, alla Camera, ma anche in Regione e nel Comune di Caltanissetta. Tra i presenti, Alessandro Di Battista, Ignazio Corrao, Azzurra Cancelleri, Maglio Di Stefano, Giancarlo Cancelleri e Giovanni Magri. Un appuntamento, quello del 20 novembre, svoltosi a Caltanissetta, che rientra nel tour partito l'11 novembre da Osta e che si chiuderà a Torino il 2 dicembre. Un tour di più di 6.000 chilometri, percorsi utilizzando treni regionali e traghetti, che ha coinvolto e coinvolgerà diverse città italiane, per un totale di 48 tappe su tutto il territorio nazionale, per sostenere le ragioni del no al referendum costituzionale che si svolgerà domenica 4 dicembre. Noi ci siamo schierati per il no sin dalla fase della genesi di questa riforma, perché sono i modi che non ci sono piaciuti, non ci piacciono i contenuti, non ci piace il modo in cui è scritto, non ci piace l'obiettivo che ha questa riforma. Purtroppo ci ritroviamo in una situazione in cui il primo ministro, piuttosto che pensare a governare l'Italia, pensa a fare una campagna su un referendum che riguarda una riforma costituzionale che probabilmente gli è stata chiesta da fuori e che serve semplicemente a dare più potere a chi il potere già ce l'ha. È una riforma che sbilancia gli equilibri istituzionali tra governo e Parlamento dal lato del governo. È una riforma scritta male, è una riforma che va a indebolire il ruolo delle istituzioni, è una riforma poco leggibile in cui non si capisce più bene la funzione del Senato, si vanno a sminuire la funzione degli enti locali, si vanno ad avere dei senatori che saranno consiglieri regionali e sindaci al dopolavoro, che saranno nominati dei partiti e che faranno esclusivamente quello che il partito che li nomina gli ordina di fare. Allora, noi abbiamo altre priorità, questo paese ha bisogno di ripartire, questo paese ha bisogno di riforme concrete che riguardano la vita concreta dei cittadini e ha bisogno di dire no a questi giochi di potere che sono fatti da chi si ritrova in un certo momento a governare e cambia la Costituzione per restarci più a lungo. Una riforma della Costituzione si fa in Parlamento, tenendo conto di tutte le forze politiche presenti, coinvolgendo i cittadini e andando a toccare quelli che sono i bisogni dei cittadini per i cittadini. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Comune di Gela, la libreria Mondadori e l'istituto scolastico Ettore Majorana organizzano per venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 novembre un'iniziativa che si terrà nei locali di Palazzo Ducale. Alle 16.30 del 25 è prevista l'inaugurazione della mostra denominata Letteratura e Arte. Sabato 26 al Teatro Eschiro alle 10.30 e alle 20.30 si terrà allo spettacolo l'urlo dei silenzi artisti contro la violenza sulle donne. Sono numerosi gli attori che saliranno sul palco, la regia è affidata a Maurizio Nicastro, hanno aderito all'iniziativa numerosi club service territoriali. E oggi con le nostre telecamere abbiamo seguito a Gela la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Anche Gela, come dicevamo, ha aderito con l'Istituto Comprensivo Giovanni Verga, scuola amica dell'Unicef. Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Anche Gela ha aderito con l'Istituto Comprensivo Giovanni Verga, scuola amica dell'Unicef. Oggi sono state messe in campo una serie di iniziative che vedono protagonisti gli alunni attraverso la preparazione di cartellonistica, riflessioni, visione di cortometraggi, esibizioni sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questa mattina gli alunni delle classi di scuola primaria del plesso di Via Caviaga si sono recati nel plesso centrale di Via Salunicco e assieme agli altri studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado hanno festeggiato l'evento. Ricordare i bambini che ci sono ai loro pari, che hanno bisogno e versano veramente in condizioni di vita indescrivibili e indicibili, non apprezzo. Non apprezzo ai fini dell'educazione, alla sensibilità, all'affettività, alla solidarietà, che sono tutti i valori che ci pregiamo di trasferire ai nostri alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. È una giornata più che altro celebrativa, che ha l'impronta di una festa, che riusciamo a realizzare anche grazie di quell'impegno degli insegnanti, primi fra tutti, ma che si correda dell'operato realmente e una testimonianza di grande creatività. Noi siamo qui perché abbiamo veramente una grande gioia di partecipare a questo progetto, che ha una finalità importante. Abbiamo scoperto che i nostri bambini tutti hanno compreso il messaggio e l'hanno compreso oggi diversamente da come poteva essere ieri. Oggi hanno riflettuto su quali potevano essere realmente i loro diritti, diritti che loro non riconoscevano perché per loro cose ovvie, come la famiglia, la salute, l'istituzione, la scuola e quanto altro, erano normalità di tutti i giorni, mentre oggi hanno compreso che questi si chiamano diritti e che questi diritti non sono alla portata di tutti. Abbiamo studiato i diritti, ci hanno fatto vedere anche molti video di persone che soffrivano, ci hanno fatto capire l'importanza di questa festa, abbiamo fatto anche dei cartelloni. Ho imparato che questi bambini non devono soffrire, cioè perché non ci dovrebbe essere manco la guerra perché se no questi bambini soffrono, piangono, muoiono. Il diritto alla vita, ad essere protetto, ad avere un dottore, ad avere un nome, ad avere una famiglia al gioco. Domani tutte le sezioni di scuola dell'infanzia ricorderanno la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza incontrandosi nel plesso di Via Caviaga dove è prevista la marcia dei diritti nel cortile della scuola. L'iniziativa prevede la presenza di una delegazione dei volontari dell'Unicef che si presteranno a dare il loro contributo. I nativi digitali, vita da social tra reale e virtuale. E questo è il tema di una conferenza organizzata dalla Rotary Club di Gela presieduto da Simone Siciliano con il patrocinio del Comune domani martedì 22 novembre alle 18.30 presso l'ex chiesa di San Giovanni. A relazionare sul tema è il professor Francesco Pira, sociologo, docente di comunicazione presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università di Messina. Porterà i saluti istituzionali del Comune l'assessore ai servizi sociali Francesca Licia Abela Il tema è particolarmente sentito comprendere come i nostri figli preadolescenti e adolescenti vivono il rapporto con il web ed in particolare con i social network quali possono essere i pericoli e quali invece le tante opportunità. Appuntamento con 10 domande 10 questa sera alle 21 nostro ospite sarà il presidente di Reset 4.0 Maria Ferrera le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18.00 Fai la cosa giusta differenzia i rifiuti mantieni il decoro urbano della nostra città Oggi lunedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente conferire piccoli oggetti di uso domestico nastro adesivo, penne, carta carbone, oleata plastificata e da forno posate in plastica, sottovasi, bacinelli materiali in plastica non di imballaggio giocattoli, elettrici e nonna cassette audio e video floppy disk, cd, dvd spugne sintetiche e stracci sporti cosmetici, calze in nylon lumini votivi pannolini e assorbenti igienici sacchetti aspirapolri mozziconi di sigaretta è assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o incolorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti